Il grande fratello spagnolo e la trama intricatissima. Il gran hermano spagnolo ha dimostrato di essere molto più di un semplice reality. Recentemente, ha attirato l'attenzione del pubblico grazie alle intriganti dinamiche amorose che coinvolgono i concorrenti, in particolare Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La loro recente evoluzione amorosa ha suscitato un acceso dibattito, specie dopo la sorprendente rottura di Shaila con Favier, che ha scosso il panorama della casa e dei telespettatori. Shaila e Favier. Un finale inaspettato. Nel corso della trasmissione, la relazione tra Shaila e Favier sembrava promettente, caratterizzata da momenti di intesa e affetto. Nell'ultima puntata, Shaila ha deciso di porre fine alla loro storia. Con un sorriso malinconico, ha informato Favier che, sebbene ci fosse stata una certa attrazione, sentiva una mancanza considerevole. Non possiamo forzare ciò che non c'è, sono state le parole che hanno lasciato Favier sorpreso e disorientato. L'emergere di una nuova coppia, Shaila e Lorenzo. Improvvisamente, la situazione cambia. Shaila si avvicina a Lorenzo, creando un'alleanza romantica che ha catturato l'attenzione del pubblico. Tra sguardi e confidenze, la loro relazione ha mostrato segni evidenti di crescita. Recenti interazioni notturne tra Shaila e Lorenzo, caratterizzate da dolci coccole e un bacio, hanno fatto intensificare l'interesse intorno a questa nuova coppia. Nonostante le simpatie per il nuovo duo, il loro approccio viene osservato con una certa cautela dai concorrenti, che iniziano a interrogarsi sull'autenticità della loro relazione, temendo possa essere una strategia per guadagnare visibilità. Maika, la nuova protagonista della casa italiana. Nel frattempo, un'altra concorrente, Maika, ha rapidamente conquistato la casa del grande fratello italiano. Con il suo spirito vivace e un sorriso accattivante, ha immediatamente stretto legami con gli altri partecipanti. Un elemento interessante è la sua apparente attrazione verso Javier, ora in difficoltà dopo la rottura con Shaila. Le interazioni tra Maika e Javier sono ancora in fase di sviluppo, ma i telespettatori iniziano a nutrire speranze su una nuova possibile relazione, nella speranza che Maika possa rappresentare un nuovo inizio per Javier. Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Javier, Maika